Ebbene sì, devo aver preso in giro questa rivista per il suo titolo che non ci azzeccava un cappero con quello di cui parla perché parla di tutto tranne che della musica heavy metal ho trovato anche il numero uno di heavy metal, la rivista USA di fumetti più prestigiosa al mondo che ha esordito anche in Italia e devo dire è spizioso, è bella grossa, ha otto storie a fumetti complete quindi non è che devi seguire tutti i numeri per poter seguire la continuita e compagnia e ci sono un sacco di dossieri, di cose interessanti insomma, devo dire la verità, mi sono dovuto riprendere è il facile esempio di cui non bisogna giudicare dalla copertina io in verità vi ho giudicato dal titolo, non dalla copertina comunque sì, devo dire merita, merita una scoperta heavy metal rivista di fumetti diventare più Grazie a tutti.